Consigliere Antone Di Bonito, finalmente una buona notizia per i cittadini e residenti nella zona di Licola, si realizzerà finalmente con l'incrocio denominato incrocio killer? Sì, finalmente devo dire, la sensibilità dell'amministrazione è venuta fuori. Abbiamo dovuto fare un buon lavoro, la Commissione, il Presidente Cazzo, il Consigliere Visconti, l'assessore Fumo, il Sindaco Figliolia e alla fine siamo riusciti, abbiamo messo questa rotonda nel piano di realizzazione del 2014, abbiamo trovato i fondi che erano un residuo di altre attività non svolte per cui è stato dato in carico all'ingegnere Salzano per la realizzazione del progetto all'interno del Consiglio Comunale di ieri e l'assessore Mario Marrandino ha preso impegno che sarà una delle prime opere da realizzarsi perché effettivamente si è sentito il problema. Non soltanto questo, nel Consiglio Comunale di ieri per quanto riguarda la cultura c'è stata la volontà di acquisire a patrimonio comunale l'ex cinema Toledo. Non solo quello direttore, io devo sempre ringraziare anche la buona volontà che in queste cose e l'affiancamento che fanno i massi medi rispetto a questi argomenti sono molto molto sensibili, siamo riusciti sempre all'interno del piano, questo non significa che venga realizzato, di postare i 350 mila euro per l'acquisto del cinema Toledo quindi fondi certi, 2 milioni e mezzo per la ristrutturazione del complesso della chiesa del Purgatorio con tutti i locali annessi per sviluppare attività ricreative e culturali. Pozzuoli si avvia ad essere una città turistica ma anche culturale, perciò da qui l'impegno di tutta l'amministrazione per queste iniziative. Noi ci crediamo, il sindaco ci crede, stiamo viaggiando come una nave e stiamo cercando di portare il turismo che conta, quello che dà la possibilità di creare economia sul territorio, un altro tipo di economia che non è soltanto quello del fast food.